i appunti poi voglio chiederti la tua opinione no allora per cosa ci va la juventus ci va due sterni questo l'abbiamo detto l'abbiamo tre nuovi attaccanti poi un centrocampista no un centrale perché abbiamo solo lì beckenbauer noi che fa il centrale borucovic e poi noi abbiamo visto che sulla destra siamo coperti perché cacciares ha fatto vedere mentre sulla sinistra abbiamo solo chiellini e poi abbiamo ogboma che è quello lì il mio dubbio e lui è con me nel centro e nemmeno io lo confermerai sinceramente può fare la riserva dai può restare a fare la riserva non lo so almeno non te lo possono mandare via è il primo anno che gioca qui l'hanno pagato strapagato secondo me ha bisogno di un motivatore di qualcuno che lo non lo so ma secondo me a fare la riserva va bene secondo te Paolo adesso è una cosa molto importante secondo te Gabbiadini Zazza no Berardi no Beltrami Berardi la volta che lo dici giusto Beltrami a Bari no perché Beltrami a Bari lasciamolo a Bari fra questi due qua Zazza Zazza no io lo sarei ancora maturato si è mangiato due gol ieri ragazzi secondo te uno di quei due no ma Gabbiadini Gabbiadini subito Gabbiadini è un ragazzo con la testa a posto un balgione bravo ha fatto 17 gol ha un gran bel tiro ha fatto 17 gol si ho capito ne ha fatti tre da una parte e tre dall'altra si ho capito ha fatto anche poche partite ha avuto qualche qualità Giuliano Berardi è un giocatore che quando decide di giocare potenzialmente è bravo è molto giovane e via dicendo quello che mi preoccupa di Berardi è Agaba Agaba di Berardi che secondo me non è ancora maturo al punto giusto ha delle fobie ha delle fobie dei lunghi periodi in cui si ritira in se stesso ha difficoltà a confrontarsi con gli altri ha difficoltà a confrontarsi con i media non me lo vedo da Juve onestamente mi sembra che sia ancora molto 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 accello adesso dico una cosa mentre Gabbiadini mentre Gabbiadini è tutta altra cosa un attimo diciamo lì oscena però l'ho letta ieri l'ho letta ieri no nel senso che hanno chi è che l'ha detto mi pare vedi che fa così quello che adesso fa l'osservatore all'estero l'inglese metti il soggetto non ho capito niente quello che giocava nella Juventus quello che giocava nella Juventus che era qua ieri centrocampista che non voleva prendere caffè con Moggi ma Davids no Davids lui ha detto lui prenderebbe Balotelli secondo lui con Conte ah sì l'ho sentito sì 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 te ma io Balotelli non lavorei mai nella vita mai nella vita ma tu dici che con Conte no ma l'ha detto così perché non ero come lui dai è una come posso dire endorsement tra tra giocatori che erano stati con il stessa colore di pelle